Ciao ragazzi ragazzi, eccoci come preannunciato poc'anzi, cioè alle 13, questa è la parte 2 che in realtà sarebbe la parte 3 della seconda stagione di Pratiful, una storia d'amore inventata tra Pamela Prati e Marc Caltagirone. Allora nel video di oggi, quello che vi ho pubblicato alle 13 come tutti i giorni, vi avevo raccontato la mega intervista fatta da Iana Michelazzo a Verissimo in cui diceva anche varie cose e a suo modo raccontava la sua verità e rispondeva a quello che aveva detto la settimana prima Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Vi avevo anche detto che probabilmente nella puntata di ieri, a questo punto del Grande Fratello, Alfonso Signorini avrebbe fatto vedere degli spezzoni di questa intervista a Pamela Prati e quindi nel caso in cui avessero detto qualcosa di interessante avrei fatto anche quest'arte e quindi questo episodio. Siete qui riuniti, vecchio ciabattone, con me a parlarne e avete visto questo video, il che significa che c'è tanto tè da spillare e ci sono due cose che cambiano rispetto al video di qualche ora fa. Io anzitutto mi sono fatto i capelli, eccomi qua, li ho un po' tagliati e li ho messi un po' in su così sbarazzino e poi cambia il milkshake perché se quello di oggi mi faceva cagher, che era tipo alle ciliegie e questo qua spero che sia un po' più buono che è sempre della settimana americana, dello svuota la spesa della Lidl, del vlog che vi ho messo lunedì, quindi se ve lo siete persi è andatela a rivedere, però questa volta il cioccolato, quindi mettetevi comodi e andate a recuperare il video di oggi nel caso in cui ve lo siate persi perché se no qui in questo video non ci capirete niente, io vi do tutto il tempo del mondo, andiamo ad aprire questo benedetto milkshake che tra le altre cose, sì, ok così, questa volta non si rompe niente, dovrebbe essere un po' più buono, l'ho già shakerato eh raghi, sorso iniziale oh questo mi piace di più e adesso possiamo iniziare a parlare di quello che è successo ieri sera nella puntata del Danio Fratello nel blocco di Pamela Prati e Mark Caltagirone. State attenti perché oltre a rispondere a varie cose che ha detto Eliana Michelazzo a Verissimo la Domenica, in fondo a questo blocco c'è stata anche una dichiarazione shock che cambia, secondo me, molte dinamiche e molte cose e molti pensieri, però quello poi me lo andrete a dire voi tramite commento. Vi chiedo innanzitutto, non lo faccio mai all'inizio del video, però voglio provare una cosa, di lasciare un like a questo video, per favore, perché c'è un esperimento sociale dato, voglio controllare determinate cose, ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Ieri sera Alfonso Signorini apre la puntata del Grande Fratello Vip parlando subito con Pamela Prati di quello che era successo durante il weekend scorso, e cioè che Eliana Michelazzo, una delle sue due ex manager, aveva fatto una lunga intervista a Verissimo. A noi, pubblico da casa, Alfonso dice che, per forza di cose, nel pomeriggio gli autori e Alfonso Signorini avevano avvertito già Pamela Prati che sarebbero tornati nell'argomento Mark Caltagirone, ma che non gli avevano detto altro, quindi lei non sapeva che avrebbe visto degli stralci dell'intervista di Eliana Michelazzo. Secondo me l'hanno avvertita perché, siccome l'ultima volta, quando ne ha parlato, diciamo che abbiamo visto che è stata anche abbastanza male, magari per farle un agguato direttamente in diretta, loro avevano paura di una sua reazione, tipo chiamatemi un taxi di qualche anno fa. Quindi hanno visto bene di avvertirla e quindi inizia la puntata così. Pamela Prati, vieni in Mystery Room che dobbiamo continuare a parlare di Mark Caltagirone. Inizialmente fanno un mini riassunto di quello che era successo la scorsa settimana con le parole e la verità di Pamela Prati e qui, in questo momento, dicono proprio chiaro e tondo che l'intenzione di parlare di questa cosa anche al Grande Fratello per Pamela Prati era quello di far cambiare idea al pubblico e di portare il pubblico dalla parte di Pamela. Inoltre, prima di avvertire Pamela Prati dell'intervista di Eliana Michelazzo, Alfonso ci dice che nel pomeriggio aveva parlato ancora una volta con l'avvocatessa di Pamela Prati, che era presente in studio anche ieri sera, e gli aveva fatto vedere i messaggi di WhatsApp che, vi ricordate, scorsa settimana avevano detto che erano 70.000? Bene, oggi sono 120.000, quindi sono moltiplicati e facendo due calcoli, 120.000 messaggi in dieci mesi sarebbero su per giù 400 messaggi al giorno, il che fa intendere, e loro lo dicono anche, che Pamela Prati stava praticamente dalla mattina alla sera al telefono a mandare questi benedetti Whatsappini. Arriva la prima bomba, perché di questi ben 120.000 messaggi, allora badate bene, io ora, in questa prima parte, vi faccio il riassunto di quello che è successo per farvi capire, anche per chi non ha visto la puntata, poi dopo, come sempre, vi dico le mie perplessità e i miei dubbi, quindi ora non dico niente, mi limito solamente a spiegarvi le cose. Fatto sta che di questi 120.000 messaggi in WhatsApp, Alfonso, signorini, ci sgancia una bomba, perché ci fa ascoltare due messaggi vocali con la voce presunta di Mark Caltagirone. Inizialmente dice che probabilmente è la stessa voce della telefonata che chiamò Barbara Durso nel 2019, poi dice, boh, forse no, non si riconosce, probabilmente sono due persone diverse. Fatto sta che i messaggi vocali sono due. Il primo è in cui le dà la buonanotte. Dolce notte da una persona a cui manchi tanto. Dolce notte da chi... E il secondo è quello in cui praticamente le dice, io ti porterò all'altare, io ti sposerò. Ti porterò nella favola più bella, ti porterò all'altare. E lì inizierà, anzi, continuerà la storia d'amore più bella che esista. Ora, io non sono un esperto di voci e sono passati anche anni e anni da quando a Live Nonella d'Urso Mark Caltagirone chiamò in diretta, però mi sembra di ricordare una voce diversa. Quindi probabilmente dietro Mark Caltagirone non solo c'era Donna Pamela, non solo c'era Eliana Micrazzo per Pamela Prati, e non solo c'era un uomo, ma ce n'era ben due se non di più. Il fatto che la voce sia diversa da quella che si è sentito la Barbara D'Urso l'aveva anche confermato poi Giovanni Ciacci nello studio del grande fratello Vip, ma sono passati anche un monte d'anni, quindi non vorrei sbagliarmi. Fatto sta che dopo questo primo super scoop e super cosa, no? Perché finalmente, nel senso ce lo siamo chiesti tutti, ci sono tantissimi messaggi, dici da te, 800 miliardi di prove, ma invece di dire e far finta di piangere senza lacrime e dire dovete credermi perché io sono la vita, non ci ho guadagnato nulla e poi abbiamo scoperto che invece ci hai guadagnato il come, fai, fai questo, questo dovevi fare, far ascoltare messaggi vocali, dato che ne avevi tantissimi. E quindi questa è già una prima cosa che il grande fratello Alfonso Signorini hanno fatto vedere al pubblico per cercare un po' di continuare l'operation, ripuliamo l'immagine di Pamela, iniziata la scorsa settimana. Dopo questi messaggi Alfonso ci dice, state attenti perché la magistratura in questi giorni ha fatto dei super passi avanti e quindi ci fa intendere che sia successo qualcosa, però ovviamente non ce lo dice e io ovviamente non ve lo dico adesso, perché prima dice finalmente a Pamela Prati di Eliana Michelazzo. Gli dice, guarda, la tua ex manager Eliana Michelazzo domenica pomeriggio è stata ospita a Verissimo, ha fatto una lunga intervista che io ti farò vedere, perché lei in questa intervista dice delle cose che sono sia a tuo favore ma anche che ti vanno contro e soprattutto in questa loro intervista affrontano degli argomenti che noi l'altra settimana non abbiamo potuto affrontare per via del tempo ma che possiamo affrontare adesso. Quindi qui finalmente entriamo nel vivo di questa seconda stagione. Allora, veniamo a noi, vediamo perché non abbiamo bisogno, non ci serve una carica. I punti più importanti dell'intervista di Eliana Michelazzo, che il riassunto ve l'ho fatto alle 13, andatevelo a rivedere, ma che dentro il blocco del grande fratello Alfonso Signorini ha affrontato, sono questi. Il signore col cappellino e la paparazzata. Il fatto che lei sia stata pagata oppure no per le ospitate. Se sapeva che la paparazzata fosse appunto una cosa fake e perché l'ha fatta se credeva a Mark Caltagirone, vero. E soprattutto se crede a Eliana oppure no. Ok? Questi sono i riassuntini. Pamela Prati, questa volta, io devo dire, rispetto a anni fa, è stata anche abbastanza calma. Cioè, diciamo che era un po' agitata, però ha risposto bene o male a tutto questa volta, senza tergiversare, senza dire e non dire. Devo dire che questa volta le sue risposte mi sono piaciute. Perché? Per quanto riguarda la paparazzata che era stata fatta con Pamela e l'uomo dal berretto rosso, Pamela Prati dice che questa paparazzata non è vero, che Eliana non c'entrava a nulla, perché Pamela dice me l'hanno combinata loro. Ok? E per loro erano le due sue manager, Eliana Michelazzo e Donna Pamela. E dice di più, perché Pamela ci racconta che addirittura Mark Caltagirone le aveva scritto dicendole Guarda, devi fare questa cosa per me, fammi questo favore, dovrai fare delle foto con questo mio amico, facendo finta appunto che sono io, poi dopo ti giuro che possiamo vivere il nostro amore serenamente. Alfonso a questo punto le chiede, e lo leggo, Cosa hai detto a quell'uomo quando lo hai visto, sapendo che non era Mark Caltagirone? E lei risponde, non mi ricordo, mi sentivo in imbarazzo, l'ho fatta le foto, e poi Mark mi ha mandato un messaggio ringraziandomi. A questo punto Alfonso finalmente aggiunge anche questa benedetta Instagram stories fatta nella macchina in cui Pamela Prati stava registrando delle mani che guidavano maschili, intaggandoci Mark Caltagirone e dice, ma quindi anche quella era stata concordata. E lei ha detto sì, anche quella me l'aveva richiesta Mark e io l'ho fatto perché me l'aveva chiesto lui. Alfonso Signorini le chiede e la leggo, Però già qui, fino all'altra settimana diceva, io non ho mai mentito, io non ho mai fatto cose false, tutte così, io ho sempre visto, ho sempre pensato che fosse tutto vero. Ora invece la situazione cambia perché dice, io ho mentito sì, però ho mentito per una giusta causa, perché me lo aveva chiesto la persona che io amavo e che reputavo vera. A proposito di, sono stata plagiata, faccio un piccolo NB, mi è tornata alla mente, e l'ho vista anche su Twitter, quindi ve la faccio vedere anche a voi, in Instagram Stories del 2019 su per giù, di Eliana e Pamela quando ancora erano amiche e scherzavano sul fatto che Pamela fosse plagiata. Ve la lascio così, però io non commento. Pami, ma sei plagiata? Plagiatissima, scarpo. Pami! Scusami, mi stai plagiando, me ne vado. Pami, ma ti devi vestire come ti dico io, Pami! No, no, no! Ma come? Ma che cosa sei finita? Ma non è possibile, dove vai? Ma passiamo oltre, perché continuiamo a parlare di questo uomo col cappellino, perché io vi devo dire che questa cosa, questo punto di cui parliamo adesso, me lo ero completamente dimenticato. Cioè, una volta che ne hanno parlato ieri sera, ho detto, beh, oh mammo, perché me ne so scordato? Perché, non so se vi ricordate, ma Giletti, a non è l'arena, aveva intercettato questo uomo dal cappellino rosso e lo aveva anche intervistato. Infatti, loro, il grande fratello, hanno fatto vedere le immagini di questo uomo, ovviamente nascosto, quindi alla fine non si sa nemmeno chi è, però questo uomo ha raccontato, raccontò quindi a non è l'arena, e poi adesso sono state riprese le sue parole, che lui era stato scelto perché donna Pamela aveva detto a un suo amico che questo suo amico, cioè lui, il cappellino rosso, assomigliava tantissimo a Mark Caltagirone, il fidanzato di Pamela Prati, e quindi qualche giorno dopo fu contattato dalla Perricciolo per fare questi scatti. Racconta inoltre che Pamela Prati in quella sera era molto, diciamo, schiva, molto distaccata, e quando la Perricciolo diceva vabbè, ma vi dovete dalla mano, vi dovete abbracciare, Pamela, dice sempre l'uomo dal cappellino rosso, aveva detto, ma io non ho mai abbracciato nessuno, pensa se abbraccio lui che nemmeno conosco. Quindi l'uomo dal cappellino rosso evidenzia molto dettagliatamente la differenza di comportamento della Perricciolo che era presente di Pamela Prati che doveva fare la paparazzata con lui, dicendo che Pamela Prati era distaccata, si vedeva che era lì contro voglia, che non voleva, mentre la Perricciolo era tutt'altra persona, e quindi molto convinta era lei, anzi, che spronava Pamela e me a fare delle foto un po' più sciolte, un po' più veritiere. E inoltre questo uomo dal cappellino rosso dice che Pamela Prati si vedeva che non era molto lucida, che non aveva le forze di reagire, e che stava appunto malissimo. Dopo queste immagini, ovviamente, Pamela Prati riringrazia Massimo Ciletti, che dice grazie a lui, no, che questa storia comunque sta... aveva preso poi una piega anche un po' per un minimo positiva nei miei confronti. Ma torniamo ad Eliana Michelazzo, ragazzi. Perché Eliana Michelazzo a verissimo disse che, ve lo ricordo, Pamela Prati non era vero che non ha guadagnato un euro, ma anzi, per tutte le ospitate, anche le copertine, prendeva fior fior di soldini, cosa confermata anche da Silvia Soffanini. Quindi Alfonso Signorini gli fa vedere questo estratto dall'intervista, e Pamela, vi ricordate, l'altra settimana aveva detto io non ho assolutissimamente guadagnato un centesimo da questa storia. Ieri sera ha cambiato versione dei fatti, dicendo, è normale, ragazzi, io, essendo un artista, quando vado ospite in un programma, ovviamente ho il mio cachet. Però, quando ho scoperto che poi Marc Caltagirone non esisteva, ho deciso di non prendere più niente e di andare, eventualmente, nei vari programmi soltanto a titolo gratuito. A questa cosa, a questa dichiarazione, interviene anche l'avvocatessa dallo studio del grande fratello di Pamela Prati, dicendo, sì, è vero, Pamela Prati, fin quando credeva a questo umore, ovviamente, come tutti gli artisti che vanno ospiti in televisione, aveva il suo cachet. Però, poi, quando ha scoperto della truffa, e ha scoperto che Marc Caltagirone in realtà non esisteva, abbiamo insieme deciso che eventuali nuovi programmi televisivi ospitate di qui e di là sarebbero state soltanto a titolo gratuito perché, appunto, noi eravamo struffate e non volevamo cavalcare l'onda. Inoltre, l'avvocatessa dice e questo dovrebbe far pensare che lei non ci ha guadagnato più di tanto e non è stata una delle complici perché vi posso garantire che in quel periodo tantissime trasmissioni, tantissimi giornali la stavano richiedendo offrendo anche compensi stellari che a questo punto se lei avesse accettato Pamela a quest'ora sarebbe super ricca. Dico dopo, alla fine, quello che penso. Infine, Alfonso Signorini le chiede a Pamela Insomma, ma qui le credi a Eliana? Pensi che Eliana sia stata vittima come lo sei stata te? Oppure una dei truffatori di cui hai parlato lunedì scorso nella scorsa puntata non mi ricordo mai se è lunedì o giovedì insomma troppe puntate del Galciarello stiamo vedendo. Pamela a questo punto risponde Eliana dovrebbe dire la verità perché se tu vedi che io sto vivendo la tua stessa cosa non ti fai due domande io credo che lei sappia tutto e abbia sempre saputo tutto e continua con questo non ti fai due domande non ti fai due domande a questa domanda fatta da Pamela rispose già anticipatamente Eliana Domenica veri so perché gliela fece anche Silvia Sofanin una domanda del genere e lei rispose no ma io pensavo fosse vero anche perché Pamela Prasi non mi ha mai raccontato niente della loro love story ma semplicemente mi diceva quando era insieme a lui o quando era insieme ai bambini io ero la manager e facevo la manager ci siamo ragazzi fino a qui mamma sti video mi stanno portando via 800 miliardi di anni devo tornare al chirurgo anyway adesso arrivano i bambini Alfonso Signorini fa vedere a Pamela Prati lo spezzone dell'intervista di Eliana in cui dice che Eliana crede e pensa che Pamela Prati pensasse veramente che i figli fossero veri e quindi in questo caso le dava ragione le dice anche che appunto il 2 febbraio come vi ho detto anche nel video delle 13 c'è appunto questa prima udienza per furto d'identità e poi fa vedere un videomessaggio di questo Sebastian del bambino che le dice con la voce un po' rauca dopo un'operazione per il cancro alla gola che sta un po' meglio e che le vuole bene ma ragazzi e ragazzi arriviamo a noi perché qui arriva la super bomba di cui vi avevo parlato a inizio video Alfonso Signorini ci dice che c'è stato proprio in questi giorni una svolta nelle indagini preliminari di tutta questa truffa di tutto questo affer e che finalmente ha avuto appunto la possibilità e anche la concessione da parte appunto del tribunale di tutte le cose giuridiche di poter avvertire Pamela e quindi anche il pubblico a casa di questa cosa che è successa cosa che nessuno ancora sapeva cosa che è uscita in quel momento in diretta praticamente i genitori del bambino quello che doveva interpretare Sebastian avevano denunciato sia Pamela che Eliana e che Donna Pamela e quindi erano iniziate un po' delle indagini su questo fronte che secondo me è anche quello più importante ora fino a quando dici duca volatina in televisione mi sposo e poi non è vero chi se ne frega nel senso ci prende in giro ok per un po' però chi se ne frega il fatto che ha indignato tutti noi sono appunto l'uso è stato appunto l'uso di questi bimbi e quindi questa cosa secondo me è molto importante perché notizia dell'ultima ora dopo le prime indagini iniziali i magistrati sono venuti ad una conclusione iniziale in cui dicono che Pamela Prati non è un'indagata e quindi è libera almeno per quanto riguarda la denuncia dei genitori del bambino e quindi non è indagata per aver truffato il bambino e quindi automaticamente per la giustizia italiana lei non c'entra nulla con la storia del bambino e quindi automaticamente probabilmente lei veramente pensava che il bambino fosse reale qui prende la parola appunto l'avvocatessa di Pamela Prati dicendo allora praticamente adesso sono indagate per questa denuncia solo le due agenti di Pamela le ex agenti di Pamela che sono appunto Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo ti devo dire di più nemmeno nelle indagini preliminari Pamela era una delle indiziate era una delle indagate ma alla fine di queste indagini iniziali il PM ha confermato che Pamela non è un'indagata e quindi per questo cosa dei bambini è innocente almeno per la giustizia italiana le altre due d'altro canto dovranno affrontare un processo ma in questo processo Pamela Prati non c'entra niente quindi secondo loro è un primo importante passo verso la vera verità e poi ci fanno sapere che c'è anche parallela a questa denuncia un'altra indagine perché hanno detto che Pamela Prati aveva denunciato le due ex manager ma di questo ancora non sappiamo niente arriviamo all'ultime domande botta e risposta Alfonso le domanda te hai parlato di truffatori al prurale ma secondo te oltre alle tue due ex manager c'era anche qualcun altro dietro e lei dice sì penso di sì secondo me c'è tutto un sistema dietro hai mai capito chi è l'uomo che ti lasciava i messaggi su whatsapp e lei risponde no alla fine lui mostra l'ultimo stralcio dell'intervista di Eliana in cui Eliana fa un appello a Pamela Prati e dice siamo tutte e due delle vittime se anche te sei vittima veramente come lo sono io sono sicura che ci abbracceremo Pamela Prati a questo punto risponde non credo a una parola lo leggo non abbraccerò mai Eliana a meno che non mi porti le prove di essere una vittima anche lei quindi si credano ma non si credono vogliono le prove a questo punto Alfonso ci fa sapere che anche lui durante tutto il pomeriggio durante questi giorni grazie all'avvocatessa di Pamela ha visionato tantissimi documenti e tantissime prove che porterebbero praticamente all'innocenza quasi assoluta Pamela Prati però noi questi documenti non li abbiamo visti e quindi boh possiamo soltanto parlare di quello che ci hanno detto e soprattutto di questa prima indagine che ha scagionato Pamela Prati finisce il tutto con Pamela Prati che torna nella casa urlando giustizia 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 allora raghi questo è il riassunto adesso io vi dico tutto bello tutto carino tutto trescioso ma vi dico delle cose che secondo me non tornano e quindi boh me le sono segnate per parlarne un po' con voi i messaggi numero uno come fanno a diventare da 70.000 a 120.000 in una settimana cioè lo avete fatto per sensazionalismo per farci dire oh mamma sono sempre di più sono tantissimi oppure dovevrò ancora finirli di contare dopo tre anni cioè non potevi dire dire direttamente l'altra settimana a 120.000 messaggi perché prima erano 70.000 eravate convinti fossero 70.000 perché lo avete ribadito più e più volte e adesso sono magicamente lievitati a 120.000 non lo so non capisco seconda cosa hanno detto durante questo blocco e mi sa che uscirà un'intervista non so se su chi o altro perché stavo scrivendo al telefono cosa dovevo dire in questo video e quindi non stavo guardando la televisione ma ho visto che era apparsa un articolo di giornale che i genitori del bambino che interpretava Sebastian hanno detto che il bambino è rimasto traumatizzato da questa storia che quindi è seguito da uno psicologo e sta facendo un percorso con uno psicologo ora a me ovviamente mi dispiace ci mancherebbe altro cioè i bambini non vanno mai toccati ma io mi domando ma se il bambino è un attore ok e lui doveva semplicemente interpretare un ruolo perché avrebbe dovuto subire un trauma cioè è come se avesse fatto un film è come se avesse fatto una serie tv il suo ruolo era interpretare un altro bambino cosa che avrebbe fatto tranquillamente girando una serie tv o un film è rimasto traumatizzato da cosa dall'interpretare un figlio o è rimasto traumatizzato da quello che c'era dietro probabilmente dalla truppa che c'era dietro non lo so cioè alla fin fine io dico ok tutti si sbaglia tutti così però sono stati i genitori del bambino che l'hanno lasciato nelle mani di donna Pamela e acconsentivano a fare questa roba perché il bambino comunque è giovane quant'anni ha 8 10 anni cioè a mandare whatsapp vocali in cui faceva finta di star male che aveva il tumore alla gola non penso che fosse autonomo ci sarà stata la mamma a dire sì lo puoi fare o no non lo puoi fare a firmare il contratto c'era la mamma sicuro quindi non lo so ora arriva dietro non voglio di nulla cioè mi dispiace per il bambino ci mancherebbe altro però alla fin fine se te dovevi interpretare un ruolo e basta lascia perdere tutta la M che c'è dietro tutto il coso che è successo dietro però non mi sembra così tanto traumatico però boh qui mancherò io di empatia o mancherò io di sentimenti non lo so nel caso fatemelo sapere sotto qua con i commenti poi un'altra cosa che ok bisogna per forza credere alla magistratura perché dice che Pamela Prati in questo caso dei bambini non c'entra niente ma dice troppe incongruenze perché l'altra settimana gli hai sempre detto non ho mai guadagnato un euro non ho mai percepito un euro adesso è mai normale c'è il cachet siamo artisti e dirlo subito cioè sono queste anche queste piccole bugie no che tanto ti vengano sgamate subito che fanno dubitare tutto quello che dici capite se avessi detto fin da subito sì ragazzi io pensavo fosse vero ovviamente ho avuto la possibilità di guadagnarci i sordi ci sono stata poi quando ho scoperto però che era tutta una finzione ho deciso di smetterla così dove vi do i basi se è questa la verità e ancora perché hanno volutamente omesso la parte in cui Eliana Michelazzo avverissimo dice dei problemi di debiti dei soldi di Pamela Prati perché non affrontano mai questo argomento anche perché era uscita qualche giorno fa la notizia poi non so se è fake o se è rivelata vera che hanno mandato delle comunicazioni a quelli del Grande Fratellos per quanto riguarda i soldi che davano a Pamela Prati perché ha dei debiti e tutto quanto perché non ne parlano mai di questa cosa perché fanno finta di niente e poi un'altra mostra ragazzi scusate ma Mark Cartagirone che le chiede di fargli questo favore di fare la paparazzata con un suo amico che deve far finta di essere lui ma non ti viene e tu domanda allora ok puoi essere plagiata quanto ti pare ma se il mio fidanzato che io non ho mai visto mi pressa e mi dice guarda devi far così devi far finta che sono lui così io te lo faccio anche magari se veramente sono innamorato di te sono perso di te e così però due domande iniziano a farmi ma perché devo fare questa roba cosa ti ci vuole a mandare una foto a un giornale ad Alfonso Signorini se tanto si è venduta a ritorno a di l'esclusiva verissimo del matrimonio ma te che pensavi che con le telecamere del matrimonio di verissimo cosa ti mettevi una scatola in testa non lo so o prima o dopo sarebbe uscito il viso boh poi nascondersi a 50 anni 60 quelli che ha quando hanno detto l'altra settimana che lui è da bambino che ha cambiato la vita quindi io non penso che un bambino tipo di 6 anni abbia lo stesso viso di un uomo di 60 anni ormai sono passati tutti gli stani ma chi ti rionosce cioè boh c'è delle robe strane un po' così poi se è vero che Mark gli ha chiesto questa roba di fare questa foto di fare questa paparazzata avete 120.000 messaggi perché non ci fate vedere il messaggio in cui lui glielo domanda in cui lui glielo chiede o fateci ascoltare il vocale magari c'è un vocale in tutti questi messaggi whatsapp 120.000 che erano 70.000 adesso sono 120.000 fateci vedere le foto che gli mandava ha detto che si scambiavano foto solo che non c'era la testa fatecele vedere tanto non c'è la testa chi se ne frega così vediamo se sono fake palesi oppure no cioè secondo me boh dicono e non dicono ma questa storia ragazzi è bella anche per questo perché così ogni settimana possiamo parlarne ancora dopo tre anni e mezzo fatto sta questi sono i miei dubbi per quanto riguarda la seconda la terza parte della seconda stagione di Pratiful fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate se anche voi avete i miei dubbi se adesso credete più a Pamela che ha risposto in qualche modo ad Eliana o comunque credete ancora a Eliana ma in tutto questo ragazzi io mi ero scordato perché durante questo blocco donna Pamela ha rotto il silenzio e ha pubblicato questa Instagram stories e quindi come vi ho detto nel video delle 13 probabilmente ci sarà anche la sua verità molto presto e io vedo loro ragazzi che secondo me lei è la capa suprema nel senso è quella che ha architettato tutto è quella che è proprio lei la capona poi le altre un po' vittima un po' complice però comunque ci avevano guadagnato fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate se dopo quello che ha detto la magistratura e cioè che Pamela Prati è innocente per quanto riguarda lo sfruttamento del bambino Sebastian vi ha fatto cambiare idea su di lei o se ancora c'è qualche incongruenza come vi ho spiegato adesso poc'anzi insomma mettete piace a questo video se vi è piaciuto e vi è fatto compagnia anche oggi super doppio video e super lunghissimo mi merito un giorno di pausa ragazzi non ce la può più iscrivetevi al mio canale se ancora l'avete fatto ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao wow